elemento scp 5371 classe dell'oggetto safe procedure speciali di contenimento scp 5371 deve essere contenuto in un armadietto per oggetti di media dimensioni nel sito 19 la video sorveglianza è stata installata all'interno dell'ammadietto per rivelare qualsiasi comportamento non osservato in precedenza le indagini riguardanti le sue origini sono proibite descrizione scp 5371 è una scultura alta due metri di un umanoide deteriorato avvolto in drappi presentante uno scudo nella mano sinistra su questo scudo si legge la frase in latino vincit chi se vincit il braccio destro di scp 5371 sembra aver tenuto una volta qualcosa che successivamente si è rotto sono presenti diverse articolazioni all'interno delle braccia ma non è stato trovato alcun modo per attivare scp 5371 infonde una forte sensazione di disgusto alla vista del suo volto che si attenua immediatamente una volta interrotto il contatto visivo una volta completamente fuori dalla linea visiva scp 5371 si allontanerà il più possibile tra tutti i soggetti girandosi per evitare di guardarli se le possibili uscite sono ostruite invece muoverà lentamente la mascella in un presunto stato di angoscia anche se il resto di scp 5371 è in condizioni relativamente in buono stato le vetreve del collo mostrano segni di fratture capillare che sono successivamente guarite grazie 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 a tutti